Ciao a tutti, in questo video extra di questo periodo di pausa natalizia vi riportiamo la nostra top 10 dei giochi di cui abbiamo già fatto un video nella nostra serie Una Partita. Come sapete ultimamente la classifica periodica è cambiata dalla top 10 generale alla top 5 dell'ultima tranche in questione, questo per rendere il video più dinamico e più focalizzato. Ma diciamo che a fine anno può essere un momento adatto per tirare un attimo le somme e guardare l'intera storia di una partita e vedere tra quei giochi che vi abbiamo portato quali hanno suscitato il maggior gradimento. Partiamo quindi con la posizione numero 10 nel quale troviamo Terraforming Mars un gioco forse più famoso di terraformazione nel quale i giocatori interpreteranno delle agenzie aerospaziali che avranno come obiettivo quello appunto della terraformazione di Marte. Tutti insieme concorreranno per renderlo abitabile aumentando la quantità d'acqua sul pianeta, il livello di ossigeno, la temperatura ma alla fine della partita solo chi avrà contribuito in modo migliore a questo processo sarà il vincitore. Un gioco nel quale la meccanica del draft la fa da padrona e la scelta delle carte si rivela sempre un momento molto interessante e molto delicato per l'intera strategia. E poi c'ho l'abilità che quando piazzo una città guadagno 3 megacrediti. Quando viene collocata una città ottieni 2 megacrediti. Così così al secondo mi gioco questo. quindi sono 3, 6, 8... Stanno nella temperatura di 1. Sì. Meno 17, un tt per lì va. Il rosso avanza di 1. Mentre io passo. Io mi gioco pubbiscolo popolare nero. Quindi abbasso di due gettoni questo. Ma poi c'è tutte lui le carte. Posso usare 15 e poi così siccome l'abilità posso usare come soldi. 2, 3, 2, 5... Tua vita personale 15. A cosa dà il cuoco questo? Colloco questa. Una tessera. Che sarà un oceano di lava a questo punto. Qui così posso beccare 2 titanio. E questa è una cosa molto positiva. Ok. Ovviamente valgo su di un livello perché ho messo una tessera a mare. E aumenta la mia produzione di calore di 3. 2, 3. Alla posizione numero 9 parliamo sempre di natura con fotosintesis. Un gioco nel quale dovremmo cercare di disporre all'interno del bosco i nostri alberi per farli crescere cercando di raccogliere la maggior quantità possibile di luce solare. Gli alberi cresceranno, spargeranno altri semi e dovranno cercare di farsi spazio con gli alberi avversari. In una lotta per primeggiare in altezza. Perché primeggiare in altezza vuol dire anche togliere luce a quelli dietro di sé. Un gioco molto strategico che regala anche un bel aspetto visivo. 3. E contro l'albero. 3. E ne spendo 2. E poi cresce questo. Che finisce anche l'impegnaia. Tu fai i soldi con la produzione. O comunque non si deve fare. L'obiettivo è bruciare e tagliare. 1. 2. 3. 4. Abbatto questo qua. E mi prendo questo. Poi devo pensare se fare 5 mi prendo questo. E che prende il secondo e costa sempre un più del meno. Eh sì l'ho notato, l'ho notato tranquillamente. Però mi servono anche i punti sole dell'arte. Basta così. Tocca a me e io con le mie tre lire che voglio fare. Basta. No, resta così tranquillo. Non va bene. Basta. 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 E poi ne ho ancora 3. Ma è riuscita. Ma è riuscita a me. Non è comunque messo così male eh. Per la posizione numero 8 parliamo di civilizzazione, esplorazione, conquista, strategia e quant'altro. Parliamo di Star Trek Ascendancy tratto dal franchising di Star Trek nel quale ogni giocatore interpreterà una delle razze presenti in tale universo e dovrà espandere i propri territori o cercando di conquistare almeno due dei paesi natali degli altri giocatori oppure cercare di ottenere una vittoria per leggemonia culturale. Molto interessante di questo gioco è la sua vastità. Potrebbe non bastare un tavolo per espandere l'intera mappa di gioco soprattutto se si gioca in più di tre giocatori con tutte le varie espansioni che permettono di inserire quarto, quinto, sesto, settimo giocatore e così via ma a quel punto per forza di cosa dovete giocare per terra ma anche dai forti richiami verso le sarre televisive. Questo è perché ogni pianeta che si esplorerà, ogni carta esplorazione che verrà rivelata sarà sempre un riferimento a un episodio o a determinate situazioni della storia di Star Trek. Quindi per gli amanti del genere di sicuro è un pezzo imperdibile. generazioni risorse, io prendo due produzioni, una cultura e una scienza. Due produzioni, una cultura, una scienza e una cultura. Io prendo una produzione, tre scienze e due cultura. Profitti eccetera non ci sono, si girano i command, qualcuno ha warp, aumenta chi ha warp? Io no, io ero uscito. Ciao sono io. Allora io inizierei a colonizzare questa. Quindi un'unica, no cultura scusa. Una cultura e la nave va via. Io volevo ancora della produzione quindi anche quello lì lo... Forca miseria. Le risorse scarseggiano però io ho bisogno di averne il più possibile. Quindi niente, due produzione. Due produzione per una produzione, per una... Che tanto è l'unica cosa che puoi fare è qui, se ho guardato rossito. Vabbè. Ho solo una nave. Vabbè, uno la facciamo. Quindi per uno non puoi saltare due pianeti? Dai li metti in altre tre, non so tutte. Poi non posso andare in fu... Poi dico a trovarti giù di là. Ok, va bene. Potenzialmente... Mi sa che ho giocato di merda. Allora io ho solo... Una risorsa scarseggia. Un token ricerca che metto qua. Ok, con una cultura e questa nave. Prendo possesso di Geisa. Ormai l'ho distrutta e... Finisco il lavoro che ho iniziato. Settima posizione per un gioco dalla forte componente narrativa. Per alcuni anche troppo. Perché somiglia forse più a un libro game che a un gioco da tavolo. Anche se in realtà sul tavolo il suo incombero lo crea. Parliamo di Destinies. Un gioco nel quale i partecipanti interpreteranno, in base alla storia scelta, Un personaggio che avrà due destini da portare a compimento. I destini dei personaggi si intrecceranno tra di loro. Ma la storia dietro tutto questo sarà ignota fin quando il destino non sarà rivelato. Il primo giocatore che riuscirà a compiere uno dei suoi due percorsi disponibili che porterà da me la partita e volgerà la storia a suo favore. Mentre agli altri toccherà raccogliere probabilmente un amaro epirogo. L'incrocio dove cresce l'albero sospeso. Un luogo minaccioso. C'è musica e notta danza. I gitanni sono accampati a sud. Dai rami nodosi pendono delle corde. Ah, ecco cos'è l'albero sospeso. L'albero sospeso è un avvertimento per coloro che vogliono infrangere la legge. Quindi qua ci impiccano le persone. Eh, questo è un classico. Esatto. Ah, infatti è quello qua. Due strade si incontrano qui. Alcuni sostengono che gli incroci siano luoghi di potere. E nell'incrocio c'è il prete. Ah, quindi l'hai trovato un prete grande. Io voglio parlare col prete. Visito l'incrocio, sì. Alcuni dicono che gli incroci sono luoghi di potere al canno dove si fanno accordi oscuri. In tempi come questi, all'ombra dell'albero sospeso, sei incline a concordare. Senti un triste ululato in lontananza. La bestia? No, nemmeno un lupo. Qualcosa di più piccolo. Il prete si trova all'incrocio, sconvolto. Si avvicina a te quando arrivi. Guardo il cartello, seguo gli ululati, chiedi cosa lo preoccupa, chiedi al prete del tuo destino. Ma prima gli chiedo cosa lo preoccupa. Amico, un problema, gli confessa. Avevo intenzione di visitare il campo dei gitani, che diffonde tra di loro la parola di Cristo. Ora un duplice problema. Innanzitutto non ci provo senza permesso dell'oro veggente, altrimenti sarebbe inutile anche solo provarci. E poi, bene, ora con tutti questi terribili avvenimenti non mi sento più in grado di diffondere la buona notizia. Quindi adesso ciò. Guarda il cartello, segui gli ululati, incoraggialo e chiedi al prete del tuo destino. No, lo voglio incoraggiare. Ah, tra l'altro scusate, non avevo ricaricato il dado. Lo incoraggio. Allora, prima spendo due, cioè spendo uno di quello per avanzare di due questo. e poi voglio sperare di fare sei... No, dai, me li gioco tutti. Cosa fai ad incoraggiare? Cosa ti serve? L'intelligenza? Sì. Devo fare almeno sei. È un successo però lì. Però queste durano tre e niente. È un successo. Quindi ho fatto solo un successo e questo l'ho eseguito. Un po' pochino. Cioè, di due che ne potevo fare? Sì, infatti... Capisco il tuo punto di vista. Il prete è visibilmente a disagio, ma non credo comunque di poterli convincere di fronte a tali tragedie. Oh, cosa dovrei fare? Perdo uno di convincere. Sesto posto, ci avviciniamo alla top 5 con un capitolo della saga del Regno Occidentale. Quello che a nostro avviso si è rivelato il migliore dei tre, ossia Paladini del Regno Occidentale. Un gioco nel quale dovremo di volta in volta scegliere il Paladino di Torno, che ci darà delle abilità, ma ci fornirà anche dei lavoratori che dovremo integrare con una carta lavoratori presa dalla taverna. In base al colore, al numero dei lavoratori che abbiamo a disposizione, poi potremo eseguire delle azioni piuttosto che altre azioni. Dovremmo cercare di combattere, dovremmo cercare di commerciare, dovremmo cercare di convertire. Insomma, dovremmo cercare di difendere il Regno dalle pressioni esterne e anche svilupparlo. I compiti che daranno punti a fine della partita non saranno chiari dall'inizio, ma saranno rivelati di volta in volta. Questo crea una forte dinamicità strategica durante la partita. E' un gioco che anche per alcuni suoi aspetti richiama le meccaniche del più classico Overland. Ad ogni modo, non vi resta che provarlo per gustarvelo. Io utilizzo 3 pin che mi fa usare un altro omino a caso. E' l'omino che uso e Samsung che mi fa sviluppare pagando 2 monete in meno. Uno verde e uno bianco e poi prendo... Non c'è il suono anche col blu? Senti, dammi 2 viola, 2 viola rosso e bianco. Un sospetto mi dà una moneta e l'altro me ne dà due. Io ho Berserk. Che mi dà? DJ. Non azzecchiamo un nome ma... Vabbè, ovviamente non sono facili. Un blu. Un rosso. Quando uso l'azione presidiale non pago provviste. Ottimo. E mi vado a prendere dato che quello che vorrei fare in questa azione è questo qui. Ma non c'è un ciupolo di niente ma manco a pagarlo oro. Prendo questo qua. Un nero, due verdi e un viola. Un sospetto vero? Ehm... Sì. Una moneta. Samsung. Quando uso l'azione sviluppare pago due monete in meno. Anche tu l'ho posato io. Verde e bianco. Questa qua dai. Due rossi. E un viola e un bianco. E un sospetto. Quello giro io. Una moneta. Ah. Ok. Io assolvo. Azzurro. Azzurro. Allora vediamo. Quindi poi scarti i sospetti e orneare. Guadagli una febbra. Io sviluppo pagando due monete. Quindi la metà. Sviluppo. Prendo uno meno verde. La metto qua. Fortificare. Il secchetto ce l'hai? Sì. Ce l'hai. Uno di. Verdi. Verdi. Sì. Cosa guadagni? Ehm... Una forza. Un punto vittorio. Un meno bianco. Entriamo quindi nella top 5 con il quinto gioco. Ed è un altro gioco che si rifà a una famosissima saga cinematografica. Parliamo di Ritorno al futuro con il gioco della Funko Games e Prospero Hall Back to the Future Back in Time. Uscito praticamente in contemporanea con il gioco di Ritorno al futuro della Ravensburger. In questo caso il gioco ambientato tutto all'interno delle dinamiche del primo film. Quindi nel 1955. E dovremmo cercare di cooperare utilizzando i personaggi di Doc, Marty eccetera. Per cercare di far innamorare George e Lorraine e tenere il più possibile lontano Beef. Ma in tutto questo dovremmo anche cercare di recuperare la DeLorean, aggiustarla e portarla nel posto giusto al momento giusto. Perché poi il fulmine colpirà la torre dell'orologio con la simpaticissima Dice Tower. Ma tutto ciò potrà essere portato a comprimento solo se George e Lorraine si saranno rinnamorati. E farli rinnamorare non è per nulla così semplice. Il gioco infatti è molto stretto e i problemi che sorgeranno sulla mappa metteranno davvero i bastoni tra le ruote. Inoltre se George e Lorraine durante la partita non saranno innamorati, pian piano la foto che ha in mano Marty della sua famiglia sbiadirà. E qualora la foto sbiadisca prima ancora del termine della partita, allora anche in quel caso la partita è persa. Questo gioco, difficile da vincere, vi lascerà proprio sul filo dell'ultimo istante. Proprio come succede all'interno del film e vi sembrerà di aver davvero partecipato in prima persona a quell'epica storia. Le opportunità sono sempre tre. Finalizzare i piani con George. Alla casa di George, quindi sono due alla casa di George. Allora scusa posso dirti una cosa? Quindi spaventarlo e fare il piano. Muoviti e usa i miei dadi. Ma poi lei si muoverà, eh? Appunto, nel suo turno. Ah, tu vuoi usare i miei. Ah, ok. Perché tanto di miei non riesco a usarli perché si stanno divisi. Tecnicamente fa in tempo usarli anche lei, però lei ci deve... Però non deve succedere niente nel frattempo. Eh, cioè usali tu. Poi lo si sposta. Almeno uno usalo tu. Ok, allora facciamo così. Mi gioco uno di questi, che so quello giallo per dire. Lei c'ha anche l'abilità, però gli usi tutto. Però c'ha l'abilità che i successi dei gialli si trasformano in flash. Vabbè, non voglio usare tutti i costi. Allora, e mi sposto con l'oreign qua così. Dopodiché ti chiedo permesso di usare i tuoi rosa. Più un azzurro. Tutte due rosa o uno? Due due. Più un azzurro. Ok. Ehi, ragazzi, eh. Non deludetemi. Eeeh, un bilf, vabbè. Un bilf non si può da... Beh, penso che questi non li ritiri perché sono... Vabbè, non ti vuoi ritirare il cuore. Ok. Quindi tre successi. E Biff si muove. Abbiamo detto che l'abbia più corta era questa. Quindi si muove di uno. Movimento. Vediamo dove vanno. Si muove solo Biff di uno. Quindi loro sono ancora lì. Allora, però tu sei l'arancione, quindi quelle cose lì è meglio se le fai tu che sei già lì. Allora, fai aumentare ancora il coso dell'amore paga. Quindi basta che vado qua, faccio gli occhi dolci come il cagliolino. Il cagliolino. E magari dopo vado a prendere schiaffi... Adesso tiro il... Vabbè, rosa e le... C'è anche rosa del Davide volendo. Ma si, se vuoi, si, 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 si. Eh, allora tiro il due rosa. Non so, ti tirano neanche il verde, quasi quasi. E poi quelli usai per andare a prendere la schiaffi con due. Si, esatto, esatto. Ah, non è vero che sei vero. Lo sento, capo. Non sono quei due. Prendere la schiaffi con due. Qua dentro. Ecco, un cuore. Un cuore. Un cuore. Che puoi ritigare, ma non penso che lo ritiri. No, è meglio di no. E Biff si muove di uno. Così si avvicina a me ed è subito a morte agliere piappe. Vabbè, poi te ti muovevi di tre per andare. Ti stai anche allontanare, guarda. E io c'ho anche l'abilità. E io c'ho anche l'abilità per allontanare. Ma la dici che è meglio? Ah, puoi mandarlo qui? Lo mandi qua. Sì. Dai. Quindi gli abbaio, faccio bark bark. Ok, e lo mandi qua. Ok, però io adesso c'ho altre tre dadi. E beh, allora puoi fare questo. Eh, prendo questo, esatto. E niente, che è successo? Beh, ci si... Vabbè, però c'è... Due miei. Eh, sì, perché... Ok. Due miei. Quindi... Al massimo due. E questi non li posso... Questo vuoi? No, per forza di fatti è successo. A meno che spieghi... Eh, sì, no. Ma sì, usiamoli tutti. Proviamo, dai. Questo è se escono i Biff siamo poi nella merda. Però perché... E il rischio di usare tantissime. Eh, fatti. Fatti. Un Biff. Due Biff. Però che è successo. Quindi questo va. Mi piace per Biff che si avvicini... Due, ma... Tornali prima. Esatto. Dai, buona. Parliamo sempre di film per la posizione appena sotto il podio. Film però abbastanza in là con l'età. Parliamo infatti della finestra sul cortile. O meglio... Rare window. In un gioco ancora una volta di Funko Games e Prospero Hall. Questo è un gioco deduttivo nel quale ci sarà un director che sostanzialmente è Alfred Hitchcock che casualmente selezionerà una combinazione di personaggio e caratteristiche di quel personaggio da abbinare a quattro appartamenti di questo palazzo. Gli altri giocatori dovranno quindi indovinare qual è la combinazione giusta. Un po' alla mastermind per intenderci. Il giocatore che farà il director dovrà quindi selezionare delle carte da piazzare sulle finestre dei vari appartamenti per cercare di dare indizi agli altri giocatori per capire qual è la soluzione. Le carte non sono astratte come quelle di Dixit o di Mystery Park per intenderci ma sono comunque abbastanza generiche in ogni carta si può vedere più di un elemento lasciando quindi una forte ambiguità e dando la possibilità a numerose riflessioni. C'è però una piccola chicca in questo gioco. Se il director creando casualmente la propria combinazione a inizio partita pesca la caratteristica dell'assassinio allora in realtà questo giocatore gioca in un certo senso contro gli altri giocatori. Questo perché egli vincerà la partita se gli altri giocatori indovineranno praticamente tutto tranne la caratteristica dell'omicidio quindi dovrà comunque collaborare con loro ma non troppo e loro dovranno essere abbastanza accorti da capire che tra gli indizi che vengono dati qualcosa non va. Aspetta, aspetta, esatto, mettiamo prima tutto e poi vediamo. Cos'è che avremmo? Poi siamo in dubbio. Quello sopra invece là? C'è di nuovo virtuoso. C'è di nuovo uno strumento musicale. Secondo me l'unico personaggio che potrebbe usare uno strumento musicale è un virtuoso. Passami qua. Questo è giusto. Passa dal personaggio. Era il vecchio. Nooo. Ah sì. Credo poi gli occhi. Allora questi qua sono giusti secondo noi? Sì. Secondo tutti? Sì. Anche perché questi li abbiamo ritirati da di là. Sì. Quindi. E sono tre. Quattro. Mmh. Cinque. Palese. Mmh. Valese. E poi c'è un altro. Virtuoso. Io chiederei sì questo, quello che è la mia abilità. Virtuoso sei. Virtuoso sei secondo me. Quindi se Davide chiedesse qui, vediamo se effettivamente sono questi qui sei che abbiamo indovinato. No. Se lui ci dice che questo qua è corretto. Quindi è corretto il rompitone di cuori? No. Ah. Quindi qua metto no. E io mi giro. E io mi giro. Eh eh. Quindi. Quindi se questo non è corretto. Questo incide molto sul. Aspetta. Se questo non è corretto. Amore. Ricongiamo i nostri sei. Uno, due, tre. No. Che erano giusti. Uno. Che erano chiesto quello in effetti. Era quello che avevamo escluso che non poteva essere giusto. No. Io non l'avevo escluso. Io un po' l'avevo escluso. Perché qua comunque è entrato giusto. No. Eravamo indecisi. E' entrato giusto. Perché adesso. Uno, due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Quindi vuol dire che questo era sicuramente tannato. E quindi è corretto che abbiamo messo dei break in. Qui. Si ma attenzione. Abbiamo cambiato due cose qua eh. Abbiamo cambiato anche. Non è che sta facendo Rowan. Esatto. Oh è quello che stavo dicendo prima. Eh. E qua cosa ci mettiamo? Boh. Tra le valigie. Tra le valigie. Viaggiatore. Attenzione perché qua c'è un'ottima miseria. O urla o è spaventata. O urlare non credere. Lui ne aveva già coperte due qua. Quindi magari questa qua. Dovuto metterla. Dovuto metterla. Questa qua è dovuto metterla per forza. Ma mi viene da dire viaggiatore perché lei le prende la. Perché c'è la valigia però. E se invece fosse il fotografo. Deci sempre quadri? Scusate. La fotografia ha fatto la bomba totta. esatto vabbè o magari è la ladra perchè qua c'è questo che sta guarda da una parte e c'ha le mani dentro una specie di scrigno e il poliziotto è vero e qua sta andando via con la recultiva con la recultiva si vabbè è difficile con la carta di becca a quattore cindizia a posto abbiamo visto io non mi prendo responsabilità secondo me ci sta perchè a meno che non c'è il poliziotto come qua però secondo me è improbabile quali sono le attività no perchè potrebbe essere anche uno di questi col poliziotto si ma non me lo faccio effettivamente è un indizio importante per me va bene vediamo vediamo 7 bella lì buongiorno a terzo posto quindi medaglia di bronzo a Orlean abbiamo già accennato Orlean parlando di paladini del regno occidentale questo perchè in questo gioco di backbuilding verranno pescati di volta in volta dei cittadini che in base al loro colore rappresentano una loro occupazione ad esempio c'è il cavaliere c'è il mercante c'è il contadino eccetera e questi personaggi potranno essere posizionati in determinati slot per fare determinate azioni quindi la componente di backbuilding è molto importante per affrontare la sorte della pesca e cercare insomma di massimizzare le probabilità di ottenere un buono sviluppo ogni volta che si recluterà un personaggio nel serie nel sacchetto si crescerà anche sul relativo tracciato che darà diversi bonus ad esempio più monete oppure ancora darà la possibilità di espandere il proprio villaggio di commerciare di aumentare il numero di personaggi pescati e così via un gioco che ormai è un classico accessibile a tutti e che per quanto ci riguarda a tutte le persone a cui l'abbiamo presentato evidentemente ha trovato un ottimo riscontro positivo le village oh un nero per me uno o due ho preso la biblioteca quindi con un rosso e con un regino con un cavaliere un sacrestano faccio due libri io ho il carro grano formaggio che scatole raga ho fatto una minchiata grande quanto una casa ho messo cioè non sapendo dove mettere questi l'ho messo qui ma io adesso non prenderò più monaco devi pescarne uno c'è qua il posto di pescarlo quindi peste io e te non c'è mai morto nessuno e se il peschio ma nooo nooo io ho il cavaliere e io ne salvo la peste no pellegrinaggio non si possono soldare i monaci sono bella bella atmosfera tararara io ho soldi soldi io sono amanti pescaggio oh sei finalmente sei 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 uno bianco e grigio niente l'azzurio è scappato dal mio sacchetto cinque vede vede se io dovessi prendere ah non dovevo pescare va dentro villaggio e università fattoria poi volevo fare il castello il castello lo faccio con questo con questo e con questo il carro ci sto dentro ah di altro che ho morto il cavaliere e poi vado a studiare se il gatto dorme il villaggio uno blu scusa prendi i blu per poi darli via io non lo so vado qua a prenderci un comune faccio il carro vado qua prendo la piuma d'oca e ci siamo ah è lana? si prendo con la saltovia l'ultima stoffa che c'è lì bella mossa tanti punti tanti punti tanti punti io faccio la biblioteca e mi prendo due libri ma io non muovere università si 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 un grigio e faccio così vedete le monete fattoria prendo un altro zappatore e un altro tavernello no no scusa ho sbagliato quello bianco e un altro tavernello la donna l'ha utilizzata tra monaci tra monaci e tavernello è una gran festa dopo me io mi muovo per il nave e vado a prendere anche questa stoffa sono stoffoso sono stoffoso per il nave e vado a prendere il formaggio che non mi piace spero che non puzzi quelli francesi e quelli proprio anche belli molli che schifo mi fa senso io ho il castello via questi e prendo il cavaliere della tavola rotonda io invece faccio un'università e prendo 5 libri uno due tre quattro standa però Mary siamo al secondo posto e qui la mosmega si fa cuba al secondo posto abbiamo un gioco che non è né localizzato né distribuito in Italia un gioco della Yuseac Games che è Sheptics per gli amanti del ghost hunting in questo gioco bisognerà entrare in una delle due mappe previste dal gioco quindi il manicomio oppure il museo ed eseguire un'indagine paranormale bisognerà cercare degli indizi per identificare l'entità che è stata solteggiata come rivale per la partita in corso e man mano che si trovano gli indizi questa entità verrà indispettita e la situazione si farà un po' più turbolenta ma al tempo stesso più indizi si saranno accorti più potremo cercare di influenzare l'entità addirittura con un'evocazione un gioco che pecca forse un po' di variabilità a livello di mappa perché la mappa non è modulare ma è sostanzialmente sempre la stessa se non fosse che tutti i token all'interno di est di partita in partita vengono posizionate ovviamente casualmente in posti diversi senza contare poi che le entità da affrontare sono molteplici l'ultima lente per cosa mi conviene rischiare avere quattro dadi gli occhi no? quattro occhi o quattro occhi o quattro dadi anche questo ma anche questi qua sotto volendo sono più difficili però comunque puoi salvarli due occhi dai ci provo provo a fare questo due occhi una fotocamera una regna tela cinchia terribile è difficile due occhi una fotocamera che fotta ecco di te puoi giocare tranquilla no è finita questa azione infatti comunque si posso fare altri ok quindi il primo è andato però adesso ho solo tre dadi e provo a fare tre occhi si provi questo ho tre occhi no secondo me guarda che non è facile che ti escono è vero che l'occhio è sul 50% dei dadi ma statisticamente che ti escono tre occhi secondo me è più ho due occhi una fotocamera ho anche due azioni ma lì ho hai due azioni provo a togliere il pensiero ho due occhi e la regna tela due occhi e la regna tela lo dici non usare troppo no non usiamo troppo due occhi e la fotocamera dai grande me lo sto guai tanto bene questo tipo e quindi c'è un'atterizzazione tu che poi non sei frequente fissionomista che cosa stai a fa? dici si non posso ritirare andiamo semplici occhio e fotocamera occhio e fotocamera meno male che non lo scelta caspita abbiamo fatto un ho fatto un bel malloppo qua ok mi è apparso me lo sono guardato per bene questo tipo e io invece gli dico scrotato scrotato io invece guardo il fantasma e tu qua e faccio yuhuuu quindi lo pulli tanto sei l'ultima e quindi puoi osare quindi yuhuuu se fallisci però il fantasma sparisce però e tanto uno due tre non poteva fare devi farne due tutte e due no basta che ne fa uno ah ok però è solo uno su sei niente tanto non ci saresti arrivato lo stesso quindi il fantasma indispettito sparisce la seconda azione è quello che c'è qui cos'è che c'è su quel letto? una ragnatela dai poi ti van bene le fotocamera anche a te esatto adesso si veda adesso che non serve clue mamma mia stiamo andando che è una limpa adesso adesso e adesso pagano ha detto potreste aver trovato qualche evidenza di soprenaturale hai bisogno però di una di uno sguardo più attento un occhio una ragnatela e due fotocamere ma la posso usare questa in casa? eh ma la deve avere quattro dadi eh non me li dai tu ma ha ancora azioni lei si ne ha uno però lei non può risolverlo questo ci vuole un quattro dadi per risolvere quello ci vuole andare solo lui che dove sei? Melisandra non è nemmeno lontanissimo eh però non è che gli posso aiutare la cosa l'importante è farlo prima che arriva la prossima abbiamo un'ora di tempo per risolvere e lui ce la fa si e corro io sono chiuso il nubitorio e la prima volta corro e poi e al primo posto in classifica medaglia d'oro per un gioco che incolla letteralmente il giocatore al tavolo parliamo delle case della follia un gioco che ci immerge nella più classica delle atmosfere lovecraftiane di volta in volta dovremo prendere parte a un'indagine nella quale ci toccherà affrontare incubi come set dell'occulto, maniaci, folle impazzite, mostri del profondo e le classiche bestie prese dall'universo di Cthulhu un gioco che vi fa pian piano immergere con tranquillità in una situazione da brividi e poi inizia a martellare veramente forte è un'esperienza che noi consigliamo a tutti il gioco tra l'altro rispetto alla prima edizione quella con il master è stato veramente molto semplificato non vi fate spaventare poi dall'utilizzo dell'app che sostituisce il master perché quest'app non è invasiva ma vi aiuta in tutto e vi dirige magistralmente all'interno dell'avventura ma l'aspetto gioco da tavolo rimane intatto un grande tambellone componibile, miniature, una marea di carte, di token tutto questo non viene per nulla sostituito dall'app le sue macelle sbavanti ti stringono prima sulla tua gamba e poi sul braccio che alzi per proteggeti un calcio ben assestato è sufficiente a metterlo in fuga con un guarito ma i due fini ti rimangono, subisci due danni però li puoi con la forza più uno cinque beh buona dai, meno male infatti devo fare due? due cioè sono due danni di... uuuu vabbè te ne pigli uno solo e questo non è la faccia in giù quindi comunque te lo leggi gamba rotta senti un osso che si spezza con uno schiocco nauseante cazzo ti ha spaccato la gamba la tua gamba non sarà più in grado di reggere il minimo peso quando ti muovi di due o più caselle come parte di un'azione di movimento gira a faccia in su un danno quindi aumenta i danni però quando li prendi a faccia in giù tutte le volte che si muove ti girano ma ha rotto la gamba ma se non puoi farti prestare il bastone ahahahah ti ributtammo zombie, lo zombie verde che è qua si muove di una casella verso l'investigatore introgittate e già c'è quindi mostra attacca attacca l'investigatore con più oggetti nella sua casella attacca a te il cadavere ti afferma e ti trascina verso di sempre vuoi colpirti bruttamente al volto con il suo creagno devi fare due con la forza quindi io sono il primo che muore ormai la gamba rossa eh guà io devo fare due due è passato sei successo allontani la creatura con uno spuntone poi l'altro si muove no? attacca la creatura arrancante si getta all'improvviso su di te rivelando denti anneriti da sangue seccato subisci tre danni devi fare l'agilità più uno questa è pesante eh pesante si quattro danni giusto se uno lo ti cominaggerà posso farne uno ah no però c'ho anche questa dove c'era? ah no e quindi subisci un danno vediamo il tuo danno faccia in su legge ferita minore solo un colpo di striscio risolvi immediatamente nessun effetto gira faccia in giù questa carta ogni investigatore deve effettuare una prova di orrore contro il mostro interdittata con il valore va bene entrambi quindi inizio io col verde ok vaga tutta per il resto della partita mi devi tenere cos'è certo ai rumori potresti anche reggere ma è il fettore che non riesci a sopportare devo fare la volontà devo fare due con la volontà uno cominciano a girarci i mani in aria tu l'hai detto ma voi chiamati con i dadi ma al solito quando fai la parte bene che l'amo non ci ho detto che no lei se fallisci ti pieghi in due e cedi a un conato di vomito paralizzato da uno stomaco che si ribella subisci due orrore a faccia in giù e divento immobilizzato quindi o sono concentrato ma immobilizzato non puoi muoverti volontariamente alla fine del tuo turno scarica questa carta quindi io per un turno sono fermo lì vomito ma con concentrazione ma mentre la creatura avanza desorabilmente verso di di te dalla sua gola si leva un genito simile a un singhiozzo soffocato da un eco disperata della vita umana che ha ormai dimenticato subisce due orrori vai volontà di uno quindi quattro e devo fare due se fai come ho fatto io te l'altro sono a te di cinque ehm quattro di quattro sono a plane questa dunque era la nostra top 10 dei 160 giochi che vi abbiamo presentato finora in una partita se volete notizie su qualche gioco che abbiamo presentato e vi aspettavate di vedere una top 10 e invece non c'è scrivetecelo nei commenti magari vi diremo perché a che punto sta perché si perché no così come se volete vedere uno dei giochi che abbiamo in collezioni in tutorial o ancora meglio in sessione di gioco fatecelo sapere qui sotto e noi cercheremo di dargli precedenza come video da realizzare quindi ehm non ho ben idea se questo video viene verrà pubblicato prima o dopo Natale in ogni caso sarà sempre periodo delle feste quindi se dico buone feste non sbaglio più di tanto ehm ci vedremo con ehm altri video extra di sicuro vi ricordo che ci sarà ancora il video dei giochi entrati in collezione quest'anno ehm un video in cui vi presenterò le collezioni degli altri membri Antest 12 quindi non solo ehm della nostra ci sarà ancora il video dei 10 giochi più giocati da me e Mariana in questo 2023 dunque ci vediamo alla prossima ciao